Notizia dell'ultima ora, finalmente i me contro te sono stati consegnati alla giustizia Vi state sbagliando? Siamo innocenti! Liberateci, non abbiamo fatto nulla! Fate silenzio! Questo casco mi dà fastidio Ora ti taglio tutti i capelli Scherzo? Aspetta, aspetta, ma io queste voci le conosco Tranquilli amici, siamo noi Ragazzi, ma che sta succedendo? Siamo tutti ricercati, dobbiamo scappare Pongo, chicco! Aspettiamo! Dove andiamo? Andiamo a prendere un gelatino? Me contro te, il film Operazione Spie Dal primo giugno al cinema Ciao a tutti, lui è lui e lei è Sofì E insieme siamo in Me contro te Oggi registreremo il teaser del nostro nuovo film Il sesto capitolo della nostra saga Me contro te, il film Operazione Spie Ormai vi siete affezionati alla nostra saga Le nostre avventure col signore S, perfide, cattivi E i nostri amici buoni E vediamo l'ora di mostrarvi cosa succederà nel prossimo capitolo E ovviamente come vedete insieme a noi ci sono tutti i nostri amici Praticamente tutto il mondo pensa che noi e i nostri amici siamo i cattivi E quindi si stanno ricercando Dobbiamo assolutamente nasconderci perché non vogliamo essere arrestati Mani in alto Brava, ora fai tre giri su te stessa E ora giù, per terra E ora su con salto Brava, ancora Qui addirittura fanno le esercitazioni militare Ragazze, non l'avete presa troppo sul serio questa cosa? Ho visto questa banda che cominciava così Ma come? Quella lì era una tecnica di seduzione Lui pensava di poter conquistare qualunque ragazza facendo queste mostre Ombra, 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 guarda, guarda Guarda, guarda Vuole fare colpo su ombra Ma quindi tu sei un militare? No Sono una militara Lui in battuta dell'anno, vogliamo il nostro premio Battuta dell'anno, ripetitini? Non penso proprio che è battuta dell'anno Militara, capito? Militara perché Militara? Sei un militare È una militara Dai, l'ha fatto ridere L'ha fatto ridere L'ha fatto ridere, rideva sotto il bordo Ridi 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 Sto per fare uno schizzi tuo Guardate, ho preso le manette E adesso mi legherò a lei E vivremo 24 ore insieme Come la prenderà? Mantello Vieni qua, adesso vi devo far vedere una cosa Sono capitan freddolosa Sì, sì, va bene Metti le mani, metti una mano così L'altra Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi No, 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 mio caro Non funziona Vivremo 24 ore legati adesso Vabbè È solo che abbiamo un problema Non ho io la chiave della... Stai scherzando? E qua la polizia dovrebbe averla Andiamo, vabbè Dai, dopo tutto Cosa sarà mai? Andiamo, andiamo, andiamo Qualcuno ha la chiave di queste manette Abbiamo fatto un piccolo errore di calcolo Aspetta, forse ho un'idea Secondo Io sono libera Ma come hai fatto? Aspetta, faccio qualche così Un attimo Non sto capendo Ok No, no Ciao Ma questo è magia Mi liberate per favore Il momento del nostro arresto Che bello Ragazzi, sono emozionato Guardate che mezzo abbiamo È un mezzo blindato dei militari Ma come sei emozionato? Luì, ma qua ci stanno per arrestare Io sto morendo di freddo È soltanto questo scaldino Vediamo Dobbiamo andare a conquistare Via lo scaldino No, scherzo, vado a recuperare Dovremo fare la prova a salire sul van Chichino Prova a salire Vai, vai, vai Uno, due, tre È un po' alto Sofì, è il tuo momento Vai Ok, ecco qua Ecco, dai Non è questo È super atletica Pensavo peggio Ok, ok Ci provo anch'io Arriva ragazzi Sembra un sottomarino Qua dentro Guardate, venite È bellissimo Ma vi immaginate andare in giro Tipo per la città Con questo mezzo qua Sarebbe incredibile Wow, ma qui si può fare di tutto Potremmo organizzare un picnic A mangiare una piccia Wow Che poi in realtà Se devo dirla tutta Stare qui dentro Mi piace un sacco Perché si sta a calduccio Bellissimo E poi molto comodo Non sembra di stare in un aereo Ma io mi chiedo Se urlassimo tutti dentro questo posto Cosa succederebbe? Proviamo Scopriamolo Aspettate, lo so cosa succede Che al microfonista Gli stanno scappiando i timpani Ah, che a me sei per questo Sì, ma noi abbiamo i microfoni E lui ha le cuffie Per sentirci Poverino Ok, non lo rifacciamo più Va bene? No, no, no E per concludere in bellezza Ho sbattuto la testa Dentro il furgone ragazzi E adesso ho preso il ghiaccio secco Da mettermi sulla testa Che fa un tantino male Per fortuna non avete visto niente Perché è successo dentro il furgone Non c'erano delle camere dentro Quindi sono entrato E ho sbattuto la testa nel soffitto Male Ma malissimo Quindi ragazzi Noi ci vediamo prestissimo Con questo nostro nuovo capitolo Della saga Al cinema E ci vediamo su YouTube Con i nostri video Yei Yei Mua